Diciamolo prima che sia troppo tardi, serve assolutamente un video flash. Via con la sigla. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sì, devo fare un annuncio. Ming ha presentato gli orologi più leggeri, meccanici più leggeri mai costruiti. Si chiamano LV.01, una versione manuale, l'altra automatica. Vi dico soltanto questo, che sono ordinabili oggi. Oggi, giorno 27 ottobre, a partire dall'ora 1 GMT, non ho capito se sarà l'ora della Malesia, immagino. Ho un orario malese, quindi potrebbe già essere tardi perché è uno degli special projects di Ming. Quindi sono solo 200 pezzi per ognuna delle due versioni. Il prezzo è di 19.000 rotti euro, ma ad altro canto siamo in presenza degli orologi più leggeri del mondo. Primato che precedentemente spettava il Richard Mille 27.01 Nadal e quindi è molto più economico rispetto al Nadal. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere gli orologi perché meritano. Eccolo qui, diciamo subito i valori record. 8,8 mm per il manuale, 10,8 mm per l'automatico. La bucle presa 0,6 mm e il cinturino 1,2 mm. Allora qui, per capire come si è arrivati a questi risultati, bisogna capire innanzitutto il materiale della cassa. C'è una lega di magnesio, alluminio, zinco e manganese che ha scoperto Ming Tail è più leggera del carbonio e riuscendo comunque ad avere una buona resistenza. La corona è in alluminio anodizzato e così sono, da quello che ho capito, alcune viti. Ma non è solo il materiale ovviamente ad aver fatto un peso così leggero, si è dovuto anche curare la struttura dell'orologio. E infatti, diciamo che fra la lunetta e il centro del quadrante, che corrisponde al centro del quadrante, è la dimensione del calibro, che è offuscata dal colore scuro del vetro, e c'è al centro, se ho ben capito, un indicatore dei secondi continui, che quindi dà l'idea che il calibro sia in movimento, non indica i secondi, ma dà quest'idea. Noi abbiamo una sorta di rio, che poi è l'anello esterno del quadrante, che in realtà funge dal supporto del calibro. Quindi è tutta una struttura diversa per avere questo peso. E questo è abbastanza logico, così come le due sfere, quella per le ore a freccia, e quella per i minuti invece appunta più tradizionalmente, appunta scheletrata, più tradizionalmente minga. Dimenticavo di dirvi che anche la fibbia è fatta di AZ31, cioè di alluminio, no, magnesio soprattutto, alluminio, zinco e manganese, per riuscire ad essere così leggera. E ovviamente questi orologi, avete visto anche la struttura reticolare dell'interno dell'orologio, di quella parte del ring del quadrante che sostiene il calibro, avete visto che è tutta a rete, ovviamente, per utilizzare meno metallo. Così come quindi le dimensioni sono piccole, sono da estrapiatto, perché la cassa è 38 mm di diametro e 6,5 mm di spessore, quindi è una cassa praticamente ultrapiatta oltretutto. Lo ricevo, il calibro usato è questo ETA 2000, fatto in esclusiva, che è già piccolo e leggero, ma rielaborato in esclusiva per Ming, da Schwarz Etienne. Schwarz Etienne fa appunto i calibri, di solito le versioni degli ETA esclusive per Ming. E questa meraviglia è già prenotabile, bisogna dare un'interpretazione all'orario che è stato indicato sull'articolo di Monocromio, non l'ho fatto, quindi nel momento in cui vedete i video potrebbero già essere esauriti, ma ha un costo di oltre 19.000 euro, che non sono pochissimi, ma sono pochissimi rispetto agli altri orologi, finora record di leggerezza. Quindi è un primato tecnico, sperando naturalmente che abbia una durata, una affidabilità, come assicurano da Ming, perché questa è la cosa più importante se si fa l'orologio più leggero, non si può che fare i complimenti a questa marca. Marca di cui vedrete tra alcune settimane una recensione del 17.09 blu, che mi ha prestato, Pino Ronchi, che saluto, caro amico, follower della primissima ora e anche consulente in una certa misura, un po' anche come Andrea Argelli, un altro nome che mi viene in mente, che saluto, e come anche altri, Luca, eccetera, che mi ha fornito questo Ming apposta per la recensione. E quindi vedrete anche queste, ci saranno ulteriori considerazioni su questa marca. Questo, come dicevo, è un project, uno special project, quindi sono solo 200 pezzi, non ho capito se in tutto o per ciascuna delle due versioni. Comunque, se qualcuno fosse interessato, ne deve approfittare subito, bisogna versare subito il 50% del prezzo, che appunto è un prezzo non proprio leggerissimo questo. Bene, con questo vi ringrazio, vi saluto, scusate per il disturbo, ma quando ho queste notizie preferisco fare il video flash subito e per chi ci guarda oggi, cioè venerdì 27, mi raccomando la live stasera alle 21 con Speak Marine, cioè con i rappresentanti italiani di Speak Marine. Grazie e un caro saluto a tutti.